Quali sono le cause del bug? Lo accerteremo con un'indagine interna. Non escludo nulla, spero non si tratti di un cyberattacco ma di un difetto del programma. Lo verificheremo ma anche se ci fosse un intervento di manipolazione questo manipolerebbe la parte comunicativa dei dati e non quella deliberativa perché quella non passa proprio per la parte informatica. È molto più manuale riguarda il tribunale. Questa la precisazione del sindaco di Roma Roberto Gualtieri sul problema che ha riguardato il conteggio delle preferenze a Roma. Un caso rimbalzato ieri su scala nazionale per i rallentamenti causati in una giornata caotica come quella del post voto. A proposito di elezioni, mentre anche nel Lazio si registra un'avanzata dei sindaci di centro-sinistra, la candidata Viterbese di Fratelli d'Italia, Antonella Sberna, con quasi 48 mila voti, sarà la prima europarlamentare Viterbese. Nessun politico della Tuscia prima di lei era riuscito a varcare i confini nazionali. Ce l'abbiamo fatta, scrive Sberna sui social. È una vittoria storica. Ora portiamo la Tuscia in Europa. Grazie di cuore a tutti voi che mi avete aiutata.